Salve a tutti ragazzi e bentornati al LOL Club, io sono Padman e io sono Molla. E siamo qui con una bella mappa, una mappa di disco, uno che di redstone ci va anche a dormire. Molla ha già caricato i cannoni però non vale. Guarda che ho lo zoom, riesco a vederti anche a lontananza. Lui carica, lui carica TNT, eh vabbè. Comunque la mappa è la Battle Royale, prendiamoci un po' di TNT e lo scopo è quello di buttare giù i quattro cannoni dell'avversario. Molla ha già caricato, sì, bene, due cannoni ha già caricato, bravo Molla. Uno perché non l'ha fatto scoppiare, non so come l'ha fatto però va bene. Comunque, bah direi che potremmo quasi iniziare. Ah, mi è scoppiato un cannone. Bene, ottimo. Hai già perso un cannone, no? No, ma l'hai detto te che è scoppiato, non è vero, Giard. No, nel senso l'hai fatto partire già, non c'è più la TNT caricata. No, me l'ho levata. Va bene, ehm, si può partire? Lo prendo per un sì questo. Guardalo! T'ho colpito? Non capisco cosa mi hai fatto di danno. No, ma hai sfiorato. Ah, peccato. Vabbè. Andiamo. Boom! T'ho preso? No. Hai fatto saltare per aria il mio coso, un baule. Meglio pigliare un po' di TNT. No. Prima che vada perduta. E non posso te fare. Ci sono quattro cannoni, eh? Quindi quattro TNT. Eh, infatti. Non si sta mai. Metti che mi pigli tutti i baule e poi che ti sparo. È proprio preciso. Ah, ah, boom! Porca me si mi hanno... È un cannone, mi sa che te l'ho levato. Idem. Quale? È lo stesso. Non lo so. Non lo so. No, no. Qua è tutto integro. Sono tirato. Te lo dico subito. Se adesso mi esplode tutto quanto mi faccia, vuol dire che non è tutto integro. No. Ha funzionato. Che infame! Toh. Qualcosa è esploso. Sì, hai detto. Ma non i miei cannoni. E io l'ho visto esplodere da te. Sicuro di non aver fatto in bedrock la... La nave? La mia no. Sì, sì, immagino. Ecco. Ma già, ma ha distrutto anche un circuito di redstone. C'è proprio... Infame. Sì, ma ora non spara più. Signore, signore, aiutatemi, aiutatemi. Ho solo un cannone, è possibile? E andiamo a distruggere di l'ultimo cannone. Tan 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 tan. Questo qua è il mio preferito, quello lì sotto coperta. No, forse è mancato. Mamma. La cosa più cattiva è pigliare uno mentre sta caricando. Fargli esplodere tutti gli TNT in quel momento. Eh, ma c'è l'acqua sotto. È fatta apposta un'acqua. Eh, se uno riesce a farle andare nell'acqua. Sì, eccolo, sì. Oh, merda. Ho visto una cannonata proprio attacca. Ma perché ti sfioro solo? Cioè, ti ho distrutto un pezzo di scalette. Basta io. Cioè, guarda che... Eh, no, eh. Eh, no, eh. Eh, troppo alto. Sì, ho notato. Non ho, non ho idea di... Questo? Mancato. Non capisco cosa è successo. No, questo cannone è ancora buono. Finita la TNT? Bene, finito. Ma il cannone è ancora buono. Ma l'ultimo? Vediamo che cosa può fare. Aiuto. In atto. Troppo corto. Non riuscirai a fare nulla. Uh, vedo... Una bella cosa. Potrei caricarli di più i cannoni. Ma sì, carichiamoli di più. Come ci sei arrivato fin là? Oh, oh. Qualcosa è andato storto. Sì, ho notato. Sì, ho notato. Mi stai attaccando? Io no. Allora, questo cannone è perduto. Torniamo a questo qua. Come è perduto? Te l'ho distrutto uno? No, io me lo sono distrutto. Ottimo. Ho sbagliato a cliccare. Sbagliato, sbagliato. È partito. Basta, eccolo. Ho perso un cannone. Beh. Oh, carichiamolo il più possibile. Io non ho più nave possibile. Bello. E anche questo mi sa che lo perdo. Ho perso. Cavolo. Un blocco. No, si è fermato sopra la mia testa. Arrg. Carpa di mille valene. Tan 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 tan. Occhio al copyright. Tassetto al copyright. Tan 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 tan. Chi è? È la canzoncina. Boom. Te mi ha colpito. No. Ma perché il tu non ha niente? Cioè, hai due o tre righette di spodico. Proprio sporco. Neanche danni. Dannato. Dannato. In acqua. Ma le mie fa troppo basse me le tira. Allora, questo l'ho perso di cannone. Questo? Questo è ancora buono. Hai ancora l'ultimo. Questo è ancora carico. Ah, sì. Perché si è rotto. Vabbè, ma io ho della redstone. Potrei. Se riesco a ripararlo. No. Io quello lì che a te te lo tenevi carico. Prima ho cercato di colpirtelo. Sì. Me l'hai distrutto. Tanto, mettiamo giorno. No, lascia pure notte. Va bene. Ma non vedo neanche dove scoppiano i tuoi. I miei, cioè. Boh. Hai fatto un sacco di danni, se è questo che volevi sentir dire. Ah, mi fa piacere. Come faccio ora ad aggiustarlo? Questo cannone non lo posso aggiustare. Esatto. Perduto per sempre. Pum. Questo era un bel danno. No, ma hai distrutto praticamente il cannone con la sottocoperta, che è uno dei miei preferiti. Era il tuo preferito. Esatto. Via. Andiamo? No! In faccia mi è scoppiato. Bello. Così. Allora, speriamo. Non dovrei, dovrei essere ancora vivo, eh, comunque. Sì, sei vivo, sei vivo. Perfetto. Di qui non vedo se ti becco. Arcarpa di mille balene! Lo stiamo perdendo! Perché? Ce li ha tutti i cannoni, lui. Vabbè, parte quello. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Merda, ma qui mi hai distrutto tutti i cannoni. Aiuto. Come tutti. Eh sì. Si è bugato. Bene, mi sei anche bugato un pistone. Ottimo. Mi è rimasto un solo cannone. Oh, cacchio. E mo' come faccio? Ora devo scoprire quale è cattivo. Forse è quello là. Esatto. Allora. Tiro di sbieco. Molto semplice. Mettete un po' di re... No, perché dovrei dirlo? Che poi lo senta anche lui. Allora, qua. E qua. Spingi. Perfetto. Mi è rimasto un solo cannone a me. È idem. No, questo qui è rotto. Aiaiaiai. Aiaiaiai. Aiaiai. Aiaiai è stato un bel po' di colpi fatti bene ultimamente, mi dicono, eh. Eh, solo gli ultimi, però. Tu mi hai distrutto tutto il cannone. È che non ho neanche... Se avessi un qualsiasi coso per poter far partire il cannone, è che mi hai rotto il pulsante, lì. Cioè, mi hai rotto un coso di redstone e non posso rimetterlo. Vediamo. Dai. Se questa va bene. Eccolo. Non è valido. Lo riattacco. Non avete visto niente? Non avete visto niente? Perfetto. Paura nel mio cannone. Troppo corto il tiro. Però era bello. Ora so che devo caricarlo al massimo. Ancora uno di qui. Perfetto. Lì non va la TNT, neanche lì. Qui sì. Via. Ma non faccio niente. Troppo corto. Troppo corto. Sì, ma c'ho la TNT anche buggata. Tre. Tre. Bene. Oh. Il mio pistone è tornato a posto. Questo cannone è inutilizzabile. Questo cannone è inutilizzabile. Questo cannone è inutilizzabile. Mmm. Ce li hai ancora buoni? Sì, sì. Ok. Lì. Quindi. Devo cercare di distruggere quello laggiù. Come faccio? Così. Quattro. E ho finito la TNT. E uno no. Ma tra l'altro quelli che ho. Alcuni li potrei riparare in un secondo. È che non ho l'attrezzatura. Cioè, dovrei rubarla da quelli già distrutti. Ma non ho tempo da petto. E io lo farei. Io come si chiama? L'ho raccolta dalla roba che praticamente era lì. Che volava per terra. Non ho rotto niente. Anzi, mi hai rotto di tutto. Cioè, dovrei sacrificare un cannone. Tipo così. Tanto era già rotto. Per rimetterne in sesto un altro. Diventa giorno. Arriva il giorno, signori. Ma io non metto notte perché sono un fan. Uh, quasi. Quattro. E due. Qua carichiamo. Boom. No, ok, non ci arrivo. È troppo corto. Signori, caricare. È sbagliata la TNT. Pronti? Aspettate che non so. Ok. Caricare. Fuoco! Ma perché sto cannone è troppo? È corto sto cannone. Mettiamone solo due. Vedere cosa fa. Magari più TNT fai e meno va lontano. Non avrebbe senso la cosa, però. Boom. No, infatti è ancora più corto. E dove l'ho lanciato? Lì cos'è? Oh bene, non mi sei caricato un chunk. Ottimo. Signori, prendiamoci un po' di TNT. Qua c'è una mappa, poi ve la faccio leggere, eh, signori. Non so dove puntare. Puntiamo qua. Qui. Ma perché c'è... Sono corti i miei cannoni. Io non riesco a risalire sulla nave. Dove sei? Lì. Ottimo. Questo cannone è rotto, quindi non posso usare questo. Perché sei sceso? Sono caduto giù da un buco. Ottimo. Eh, infatti da lì... Ce l'ho fatta. Dannazione, ce l'ho fatta. Brantet! Focco! Boom! Ma perché sono corti i miei tiri? Perché se mi metti poca TNT da una parte, per farlo andare più veloce. Ovvio che poi va più piano, però. Boom! Direttamente dentro! Ti è entrata sulla... Nella nave, comunque, eh? Non vedo più arrivare la tua TNT. Che è successo? No, l'ho tirata una adesso. Non mi ha spavolato in acqua. Anche la mia spavolata in acqua. Scegnare il fuoco! Via! Boom! Non l'ho capita io, comunque, fisica, si muovono sti cannoni. Comunque... Io so soltanto che... È un po' proibitivo. Ah no, cado tutte le volte giù di sotto. È un po' proibitivo cosa? È un po' proibitivo restare in piedi sulla mia nave tutta distrutta. In acqua. Ah, questo lo so perché ho sbagliato. Allora, già che ci siamo, distruggiamo del tutto la nave. Quattro di qui. Quattro di qui. Ops, mi sa di avere sabotato il mio cannone stesso. Beh, ma sono forte. Via, voglio scappare. Ah, quel botto l'hai sentito? Sì, l'ho sentito. Anche tu, vero? Non lo so, io in quella zona di nave non ci sto andando. È tutto distrutto. Ragogliamo un po' di redstone che si è rotta. Ok. Uncora un cannone. Perfetto. Perfetto. Comunque siamo uno pari. Cioè, un cannone testa. Ma mi son distrutto da solo, no? 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 No. Perché non riesco a mettere la TNT? Che infame. Nicole, chiudi la porta che sto registrando. Nicole, chiudi la porta! Chiudi la porta che sto registrando! Eh, io direi di aver vinto, comunque. Che infame sta riparando il cannone. Spriamoci, spriamoci, spriamoci. No! Mi è crashato Camtasia. Ottimo. Cerca di ripristinare il minimo questo. Sì, questo qui, boh, non so cosa sta facendo. Però adesso c'ho in mezzo... L'affare. Va bene, signori. Mi sa che dovrì un po', da questo momento in poi vedrete solo la mia parte di video. Ok, qua i pistoni qua si buggano, ma... Per noi, a noi ci piace lo stesso. Niente, ho sbagliato io. Sì, ma non posso neanche più muovermi nella mia nave. Non c'ho più spazio libero, quasi. Niente. Ma ce l'hai ancora i cannoni buoni, te? Sì, uno. Ora vediamo... E lì che va. Ciao. Perché siamo qua come degli imbecilli? Non lo so, voglio vedere cosa stai combinando. Sì, non ho più... Qua non ho più... Ok. Non esiste più neanche il pezzo di là. Boom. Niente. Acqua. Non è battaglia navale. Cioè, sì, è battaglia navale, ma non è battaglia navale. Cioè, è battaglia navale, quello sì. Ma non è battaglia navale. Dove sei? Che fai laggiù? Guarda che ti vedo, eh. Sì, lo so. Ah, ah, ah. No, ma... Non vedi che non ha visto che non la pagavi? E allora perché devi fare i regali così costosi? Eh? Perché non è lei, perché non è normale. Lo dico io perché. Avrai che andato a portare le soldi, praticamente, per comparti i regali, eccetera, e non va bene. Cioè, vabbè, tu la devi più lentamente smollare, ok? Eh, perché sì, perché non va bene, perché non è una cosa normale. Cosa che non va a fare? No! Dove sei? Guarda qua. Ah, 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 ah. Ammutti il momento da dentro. Sto qua è entrato. Ah, ah, ah. Cosa? Niente. Sarai andato sulla mia nave. No. No. Perché sarai andato perché tu non ci sei? Non dici niente? Io no. Ah, ok. Ora, come salire? Oh, mi lagga tutto. Eh, bravo. A me è crashato, tipo. Ah no, non più. Vediamo se qua si entra, si entra, si entra, si entra. Che succede se io metto? Oh, ho creato un bug. Vedo attraverso i blocchi. Eh, vabbè. Boom. Mi dispiace, ma hai già perso. Che infame. Perché tu, tu non avevi già i cannoni distrutti. No, quello uno funzionava ancora. Sì. Secondo me no. No. No, eh. Tanto sei in peaceful, mi sai. Dannato. Ciao, ciao. Si distrugge da solo. Comunque. Signori, penso che la battaglia sia finita. Non ho più pezzi di legno, perché tanto con le nuove ricette con un pezzo di legno si fa un bottone. Uh, guarda quanti bottoni che ho. Comunque, signori, se la battaglia vi è piaciuta, vi lascio comunque in descrizione il link della mappa. Uh, non posso andare. Non potevo rompere il blocco, ma, ehi. Dannato. Ciao. Ok. E neanche di questo pezzo di nave c'è. Comunque, signori, mentre noi finiamo di distruggere la mappa, io vi... vi potrei salutare. E quindi, qui da Padman... C'è un distributore, perché? Vagli a capire, sti. No, 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 no. Meno male. Dove sei, molla? Comunque, mentre finiamo di distruggere almeno una nave, delle due, io vi saluto. qui da Padman è... che basta. E da molla. È tutto. Un saluto dall'All Club. Spero che tu abbia registrato quello, perché io... Sì, sì. Bello, volavo. Comunque, qui da Padman... E da stop molla è tutto. Vi saluto con... Sì. Col mio bel mantello. Un saluto dall'All Club. Ti salverà la vita, però. Dici? Oh, sì. Io c'ho i bottoni. Ma sei in creative? No. Che sono i bottoni? Pulsanti. Ora sono in creative. No, io sono in survival, volevo dire, scusami. Eh no, non vale questa cosa. Eh no, eh no, eh no. Perché no? No, eh? Oh, ora è finita, veramente. Quindi, qui da Padman ormai è tutto. Buu, vai via. Buu. Un saluto anche da questo essere immondo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Il ciao ciao finale te lo potevi risparmiare in quel modo. Qui da Padman è tutto. Un saluto dall'All Club e ciao a tutti. Ti piace questo? No, no, eh.